I signori della morte hanno detto sì, l'albero più bello è stato abbattuto. I signori della morte non vogliono capire, non si uccide la vita, la memoria resta. Così l'albero cadendo ha spasso i suoi semi e in ogni angolo del mondo nasceranno foreste. Ma salvare le foreste vuol dire salvare l'uomo perché l'uomo non può vivere. Bracciaio e cemento non ci sarà mai pace, mai vero amore, finché l'uomo non imparerà. A rispettare la vita così l'albero è abbattuto, non è caduto in vano, cresceranno foreste e una nuova idea dell'uomo. Ma lunga sarà la strada, per tanti gli alberi abbattuti, prima che l'idea trionfi. Senza che nessuno muoia, forse un giorno o mai foresta, vivranno insieme. Speriamo che quel giorno ci siano ancora. Se quel giorno arriverà Ricordati di un'altra